Amiche ed amici, questa mattina ho ascoltato il telegiornale e ho saputo, fra le varie notizie e i vari proclami che ha fatto Renzi, che è salito al governo senza elezioni, che magari vuole stare quattro anni al governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il primo Ministro, che dal canto suo se gli votano la fiducia che sarà l'ultima volta che si chiederà in un governo italiano di rimpasto e tecnico in pratica, perché nessuno ha votato, anche se lui non è un tecnico, ma è un politico che fa da tecnico, fino adesso abbiamo avuto dei tecnici che facevano da politici, mi sembra giusto che un politico intenti fare il tecnico, dicevo l'ultima volta che lui chiederà la fiducia, in pratica oggi ha assunto l'incarico, quindi la prima e l'ultima volta, speriamo che sia così, tutti dicono sempre che così, poi invece non sarà né la prima né l'ultima, lui diceva che se gli danno la fiducia, lui ogni mercoledì andrà a visitare una scuola, credo che sia ogni mercoledì che ha detto, no? Strano, Fonzi negli anni 80 lo trasmettevano ogni giovedì o venerdì, vabbè, ma a parte quello, dico perché deve andare ogni mercoledì a scuola? Perché deve andare in ogni scuola d'Italia? Ogni mercoledì! Ma quanti anni pensa di stare al governo? 150? E a quali scuole andrà? Alle secondarie? Alle medie inferiori? Non so, al liceo? Alle elementari? Ma andrà aula per aula? E poi un'altra cosa, vabbè che anche politici devono avere la loro formazione professionale, ma non è un po' troppo ritornare dagli elementari a studiare? Perché no, non va a fare qualcosa all'università? Lui ritorna in ogni scuola d'Italia, vabbè, ma pur solo un giorno la settimana? Io quando studiavo andavo sei giorni la settimana, e cinque o sei ore, e ho studiato quello che ho studiato, c'è il secondario, ma dico, saranno sufficienti un giorno la settimana in una scuola così, qualsiasi, però è una cosa che chiama l'attenzione, certo non l'ha fatto per stare in campagna elettorale, primo perché è già Presidente del Consiglio dei Ministri, come si dice comunemente primo ministro, quindi non l'ha fatto per incattivirsi nessuno, secondo perché manco l'hanno votato, non ci sono state elezioni e i partiti non hanno potuto fare l'inciuccio con il voto, hanno dovuto arrangiarsela da soli, quindi hanno fatto l'inciuccio senza inciucciare il voto degli elettori, hanno fatto l'inciuccio tra le preferenze loro, ma è di questo che vi voglio parlare, come si può andare avanti così? Siamo sempre più un paese uguale a quello che è stata l'Argentina del 2001, con 5 o 6 Presidenti nominati a dito, uno più fallimentare dell'altro, speriamo che non sia così in Italia, la nostra Italia e poi siamo più vicini a un paese come il Venezuela di Ugo Chavez e di Maturo o all'Ucraina o alla Bielorussia, non è possibile che a parte del primo Ministro nominato a dito, abbiamo anche degli assessori, dei sindaci, degli intendenti e tutto il resto, perché quello è il problema della politica italiana, l'amministrazione di base, la politica di base, lasciando perdere i vertici nazionali dei partiti, che sono quello che sono, c'è chi c'è, non c'è chi non c'è, c'è c'è c'è, ma a livello locale, regionale, comunale, di quartiere c'è molto marcio, è quello che bisognerebbe correggere, non soltanto pensare alle direzioni dei partiti nazionali, alle direzioni nazionali dei partiti, o pensare ai 4 o 5 politici di cui parla sempre la tele e il media in generale, perché solo in Internet si scoprono tutti i vari problemi delle varie frazioni civiche, dei vari comuni, delle varie regioni, delle varie città, la tele è monopolizzata da i 4 o 5 politici che sono importanti in tutto il paese, ma chi c'è dietro loro? C'è tutta la micropolitica delle frazioni civiche e dei quartieri di ogni città, capito? Ci siete tutti voi dietro a quelle politiche di basso livello, poi vengono gli gerarchi della politica, la casta e quindi voglio dire, Renzi torna a scuola, mi fa contento, poveri alluni che lo verranno per compagno, ma anche gli altri dovrebbero tornare a scuola, tutti, a scuola di politica, ma una politica che non sia scuola di partitocrazia, perché quella non ci serve in Italia. Poi sono contento di stare di nuovo all'aria con tutti voi, avrei voluto fare questo commentario in YouTube, ma qua sono le 11.56, va bene che con questo microfono del Galaxy Jung 5360 vendrà quello che vendrà l'audio. Mi stavo per filmare con questo stesso cellulare e caricarlo in YouTube, ma poi viene di bassa risoluzione e se gli do formato nel computer devo accendere il computer, editarlo, poi è più lento a caricarsi, allora non mi troverà di fare nulla di questo, però grazie a speaker posso fare un programmino, poi non lo ascolterà nessuno o quattro gatti, comunque ringrazio anche quei quattro gatti. E il bello di sprechere è che direttamente accedi all'applicazione cellulare e parli, dal computer viene meglio, però appunto è già qualche cosa che non è spontaneo, qua sono le 11.58 e là non so se sono le 15.58 o le 14.58, qua io già ho fame, e chissà molti di voi hanno già finito il pranzo, perché se sono le 15.58 sono le 16, oppure sono le 14.58 e forse dovete ancora mangiare, in questo caso vi dico buon appetito, chissà da dove mi state ascoltando, dalla macchina, da casa, dal computer, da un iPhone, iPod, cellulare con Android, tablet, bu, riproduttore LP5, LP4, qualcosa con legato con Hi-Fi, o tu mi state ascoltando in 3G, o attraverso la telefonia mobile. Beh, qualunque cosa facciate, auguri, io ce ho ancora 20 minuti di programmazione, oggi fa molto freddo per essere ancora estate, ieri invece ha fatto molto caldo per essere estate e non ci si capisce più niente del clima, io anche non capisco a che distanza tenere il mio cellulare, perché non venga il suono abbombato, poi potrei mettere il microfono da scrittorio, perché filtri un po' l'audio e ho visto che con il Galaxy Yung 5360 se gli metti il microfono da scrittorio qualcosa meglio avviene, però ecco così è più immediato il suono. Dicevo che in questi giorni ho caricato dei video nel mio canale Sant'Ancian di YouTube, quanti di voi siano interessati a guardarlo? Soprattutto ho fatto 4 video che sono commentari a giornali che io avevo comprato nel 2001 e che non ho letto. A riprova che tutto quello che sta succedendo adesso in realtà è già successo nel passato, le notizie non cambiano. Si chiede a più voci nelle 4 coppie che ho del 2001 del Corriere della Sera, la flessibilità economica per fare ripartire le imprese nel 2001. Adesso chiedono lo stesso, infatti molti di voi si ritroveranno nella strada proprio grazie a questa flessibilità economica. Poi i DS dicevano o cambiamo o affondiamo, non sono riusciti ad affondarsi perché sono cambiati nel nome, ma poi adesso si stanno riaffondando con tutte le decisioni che hanno preso. C'era ancora il Partito Comunista Italiano, o meglio la rifondazione del Partito Comunista Italiano, un'intervista a Bertinotti, poi il Partito Comunista Italiano e la rifondazione si è affussata, è nata una rifondazione del Partito Comunista Italiano che adesso praticamente è riaffussata perché non vale quasi nulla. Insomma la politica è la stessa, si sono compiute le stesse scelte e con gli stessi risultati. Si è reiterato tutto in questi ultimi 13 anni, da quando ho comprato quei giornali, del Corriere della Sera del 2001. Che bello essere così conservatori nel senso che nulla cambia, qualsiasi stronzata continuino a fare e per esempio gli stessi risultati. È magico! Beh, che dire? Forse a coraggio la vita va avanti, la politica pure, per conto suo, e non ci riguarderebbe se non fosse altro che le scelte dei politici poi rovinano la nostra esistenza, perché tanto già stanno per ricarsi loro. Poi se non ci affittassero le loro spette sarebbe un circo mediatico come lo ossia andremo. Allora, a proposito, io ho visto in che tempo che fa, che mi sembra che quando c'è il televisore l'ho spento. Certo, non l'avevo smontato, no? Capite che il senso è quello. E c'è, a un certo punto, quanto gli è toccato dire le sue battute, le sue sfreddure, per non dire se piace, alla carissima e bravissima Luciana Liticeto. Invece sono stati intervistati dall'altro comico, che di solito è il sabato, che dice le due battute, le dodici cose più importanti, no? Evidentemente lì ci sono due cose importanti da dire, Fabrizio Fazio e Luciana Liticeto. Luciana Liticeto è incredibilmente seria, anzi direi di più, incazzata. E Fabrizio Fazio pure, che non si riusciva a scompire lo verosamente, quello di protocollo diceva parolace. Perché poi il comico, quello litelato, che dice le cose più importanti in sabato, gli intervistati, sicuro che già mediaticamente è uno scandalo, non nella RAI, perché non ne parlano, e ne parlano poco nei TG della RAI, chiaramente. è una politica editoriale dell'azienda, hanno il diritto di farlo, fino al chiarimento della vicenda, ovviamente, chiaramente. Ma in Internet ormai si è detto qualsiasi cosa di tutto il Q, e anzi, io mantenendomi neutrale e imparziale e anche cauto, ho detto qualcosa pure io, di quello che sentite in rete. E quindi guardate i miei video nel canale YouTube Sant'Enciante, saperlo. Certo, quelli che hanno per titolo Sanremo. Ma io stesso ho trovato una notizia che non è tendenziosa e stava sui giornali, che la procura di dove è Sanremo, diciamo. La procura sta indagando, indagando su quella che è stata definita crudamente la pagliacciata dei sinti disoccupati. Quindi si sapeva, o no, che è stata una cosa coreografica, una sceneggiatura. Due, che non erano disoccupati, magari che erano persone note al pubblico per il loro esibizionismo e le loro doti istrioniche. E terzo, che qualcuno organizzò anche dall'interno tutto quello. Infatti, poi a denti stretti e sotto i bassi, Fabrizio, Fazio e Luciana lì, ti hanno detto, noi siamo strani alla vicenda. Forse, forse si sta indagando che qualcuno da dentro del festival sia stato al gioco, se non addirittura organizzato tutto da dentro. Infatti la RAI ha pagato l'hotel a queste due comparse. Dico comparse perché è questa l'ultima versione che la stessa procura sta indagando. Perché abbiano fatto questo, non si sa. Però la procura non è interessata soltanto a che queste due persone comunque abbiano potuto realmente mettere a repentaglio la loro incolumità e se sono state ingaggiate per farlo come atto azibizionistico e non abbiano ricevuto le giuste retribuzioni, anche le giuste indignità della salute, perché si cadevano, si facevano male o morivano, erano lavoratori indregolari se stato tutto inscenato da dentro. Avrebbero potuto farlo, però ingaggiandoli come stantaman comparse di rischio e poi dicendo che comunque era una performance, non era un qualche cosa di vero. Ma la gravità del fatto sta che emulare, anche se è più finta, un tentativo di suicidio così plateale è in prima serata e potrebbe essere visto che da niente parlando come stigazione al suicidio, perché si dà l'esempio e quindi anche se è un qualche cosa di finto, già anche se fosse stato vero metterlo in scena, si sarebbe dovuto sospendere la diretta, metterlo in scena potrebbe caraturare, essere registrato come stigazione al suicidio, perché si fa vedere come si fa, come uno ci si dita, ma se era finto, se era tutta una scena, che c'era ancora? Perché allora è stato fatto apposta, l'esempio e potrebbe parlare dei suggerimenti ad elementi perturbate, primo, secondo che è una maniera per aumentare gli audiens e io l'ho detto nel mio video, io non sono in mala fede e non sono per malosso, però secondo quanto ho ascoltato, detto da altri e scritto da altri, è strano che proprio quando inizia, si apre il separio, inizia il monologo di Fabrizio Spazio sulla disoccupazione, su tutti i mali della disoccupazione, subito iniziano a urlare, mi butto, mi butto, no, 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 mi butto, aprono dei separi laterali, cioè di subito non ci sono le separi laterali, non si ce l'ha osservato, in questo episodio di Sanremo, in questa puntata di Sanremo, in questa come direbbe Nino Classica, che lo diceva in indietro tutta, in questa puntata nata di Sanremo, e c'erano i separi laterali, che ci stavano a fare? Poi magari non ci stavano più, faceva parte della coreografia del sento sicilio? O era un sicilio vero e hanno praticato di quella coscienza tecnica che poi l'hanno levata per evitare che altri più disgraziati e si buttino di sotto? Allora, giusto quando si parlava di disoccupazione, magari arrivato nel punto algido dopo dieci secondi, l'indifferenza della gente perché la gente da casa preferisce divertirsi e divagare, non vedere solo i problemi, questi si volevano buttare. e poi non si sa se la lettera già ce l'aveva in mano Fabrizio Fazio e così ci avevano un'altra lettera. Perché io ho visto poco lo visto dal telegiornale, la scenografia, e mi sembra che lui già ci ha detto una lettera in mano, che gliela portano ma si mischia con quella che aveva, non so, una cosa strana, e poi parla del contenuto della lettera prima di leggerla, che sono le cose che ha detto anche nell'introduzione di Sanremo. Ma io dico, uno che si va a suicidare a Sanremo, lo fa nell'introduzione che è il momento meno seguito in tutti i festival di Sanremo, che sono le parole, diciamo, di prassi che vengono dette, non è che viene detto chissà che cosa, l'audience notoriamente a Sanremo all'inizio è molto basso, almeno nell'89 l'hanno seguito molti perché parlava Beppe Grillo e sputanava la RAI, come anche adesso fa, però la gente ha seguito di più il secondo episodio di Sanremo che era quello più pesante dove intervenivano già i cantanti, l'episodio introduttivo di Sanremo l'ha seguito più con nessuno e in pratica non si è aumentato l'audience con il tentativo di suicidio, allora tutto questo mi sembra sospitto, due persone disoccupate, croniche da mesi o da anni che già devono raccogliere del denaro, pensateci voi, per andare a Sanremo da tanto lontano, che saranno 500.000 Euro a persona, poi comprare il palco di Sanremo a 1600 Euro, oh ragazzi, sono 3 milioni di novecchielli da entrare a Sanremo, infatti ci sarà per sapere 2.000, 5.000 persone, quante? Di meno? E non mi scordate che non ci sono milioni di persone dentro sul teatro Addison, se no non ci sarebbe posto per cantare, tanto da sempre Sanremo si è visto nella tele, o stiamo scherzando? Allora, pagano, per andare a Sanremo? La tele non gliel'avrebbe pagato la RAI, pensate voi, a quanti hanno pagato la RAI che sono andati in hotel a Sanremo a vedere Sanremo? Eh? Ah, forse gli hanno pagato l'hotel la RAI, perché la RAI ha pagato l'hotel perché stavano sotto indagine, adesso li processano e gli pagano l'hotel, che strano, e poi pagare il biglietto. Uno, io per fortuna non mi vorrei mai suicidare, poi non lo farei a Sanremo, mi sarebbe una pagliacciata, una carnes, comunque sento interessarlo, che farei? Andrei a Sanremo, in silenzio, andrei a vedere l'antitima, vedrei un po' di canzoni e poi annoiata a morte non saprei più se suicidarmi per una questione sociale o personale mia o più le canzoni. Magari quella sarebbe una spinta molto forte, per fortuna che nel pubblico normale non attua, perché altrimenti si sarebbero suicidati tutti al termine del festival. Però mi sarebbe buttato di sotto, almeno voglio dire, quella con la storia, no? Di due esploratori inglesi in Africa, che sono catturati da una tribù indigena, li legano e uno delle due, cioè no, e mi viene il capo del villaggio, loro sono centinaia e gli dicono, voi potete scegliere? O bunga bunga o te sgossiamo e poi magari te mangiamo pure. Allora uno dice, no, io preferisco morire, essere oltreggiato, gli esplorano e lo cucinano, lo mangiano. Il giorno dopo vanno dall'altro inglese, gli dice no, beh, preferirei che mi ci veste, però già che c'è stato prima un po' il bunga bunga. Allora, già che c'è stava, vabbè, si faceva siliziare e non si faceva ammazzare, no? Allora uno che va a Sanremo, già disposto a morire, un po' di strazio musicale lo fa facile, no? Non è che dice ah, no, mi ammazzo, non ascolto niente, tanto deve morire, certo, dopo quello che puoi ascoltare a Sanremo non andrà in paradiso, andrà in purgatorio come minimo, però mi sembra strano. Poi un'altra cosa, che comunque per suicidarsi uno dovrebbe buttarsi almeno la prima canzone, col cellulare nella mano, che di sicuro avranno avuto, dovranno seguire il rating di Sanremo, l'audience. Quando arriviamo a Pico Massimo, cosa che è un po' difficile per Sanremo? Bisogna avere resistenza. Allora lì si buttavano, avrebbero seguito milioni di persone in diretta TV, soltanto in diretta TV, non dico attraverso internet. E in Italia, anche nel resto del mondo, tanto a uno che è molto conosciuto, sono centinaia di milioni di persone nel mondo. Quindi, o un cantante molto popolare, oppure il cantante peggiore, che già uno non è più più, si butta di sotto. E invece no, non hanno fatto questo. Hanno aspettato il momento più palloso, più scontato e meno seguito per ammazzarsi. E poi non l'hanno fatto. Bene per loro che non l'hanno fatto, sono contento. Comunque fantasticati sono. Perché uno che se vuole ammazzare, lo premedita, è una cosa triste, dolorosa, per raccogliere il denaro da parenti e amici e familiari. Io c'è sempre così, non mi potrei suicidare. I miei familiari non hanno soldi. Parenti ne ho pochi e non me ne darebbero neanche per l'autobus in città. Potete immaginare per andarmi a ammazzare lontano, dovendo spendere centinaia o migliaia di Euro per muovermi. E starei ancora a casa dieci anni dopo. E ragazzi, non stiamo mica scherzando. Il Sicilio è una cosa seria. Ma poi, se funzionarlo, è anche una fregiglia maggiore. E poi non andrei mai a comprare un biglietto dell'Ariston per andarmi a ammazzare. Cercherò di farlo gratis. E voglio dire, gli vado a regalare i soldi al Sanremo per ammazzarmi. E poi, trovandomi lì, non ascolterei niente. Non è che parlò se l'introduzione. Anche se la fa faccio, ma a prescindere da ciò è sempre l'introduzione. Tu vai in un meeting, in un seminario, in una conferenza, e l'introduzione non le serve nessuno, perché se tu sei un professore che ti vai a giornare di antropologia, o sei uno studente di qualsiasi cosa, c'è bisogno di ascoltare l'introduzione alla carriera quando già sei studente di primo, secondo o quarto anno? E no, veramente no. Credo che puoi anche ascoltare l'introduzione. Quanti che sono professori di una materia vanno ad ascoltare l'introduzione in una disciplina? E nessuno, vanno al secondo giorno. Solo gli studenti che iniziano devono andare perché hanno l'obbligo di frequenza, ma quasi nessuno ascolta, perché l'introduzione c'è pure nei libri, che ti spiegano di nuovo? Beh, si direbbe che questi sono stati praticati, sprendere così tanto nel viaggio. Andare a sprendere nel diritto di il primo per ammazzarsi nell'introduzione, quindi nessuno li avrebbe seguiti. È stato più uno scandalo mediatico che non uno scandalo dal vivo. Per fortuna che Mamma Rai gli ha pagato i biglietti del soggiorno dell'hotel. Poi non si sa che precedenti avessero queste persone, magari erano disoccupati autori. Comunque il tono serio con i quali Litizzetto e Fazio hanno replicato nel loro stesso programma, incazzatissimi, io credo che Litizzetto non abbia neanche detto ieri una sola battuta umoristica delle sue, perché è stato in un momento grave, nel senso che possono essere imputati per coazione in un fatto doloso. Il fatto è che, anche se fosse stato un suicidio autentico, perché di pazzi in giro ci sono tanti, e che non hanno pensato di suicidarsi subito, buttandosi quando cantava il miglior cantante o il peggiore, generando quindi reale commozione. Perché già c'è stato un suicidio a Sanremo, quello di Tenco, che addirittura si è sparato nella camera d'hotel senza dire niente. Quindi è un qualche cosa che non si sa se lo hanno ammazzato. Comunque, se uno si vuole ammazzare non lo dice, lascia una lettera. Questo che abbiano fatto lettere suicide in quadrucice coppia, le abbiano distribuite, poi stavano così avvinghiati. Addirittura mi sembra che c'erano un cavo di sicurezza legato alla cintura. Li guardavano da lontano senza intervenire, senza volere. È una cosa pazzesca. Stavano in un luogo che non era molto in sicuro da buttarsi. In un luogo veramente che lascia dei sospetti. Adesso se mi finisce il tempo, ho 36 secondi. Saluti a tutti e alla prossima puntata. Ciao!